La situazione dell'ex area sacci nel comune di Bibbiena, in stallo e abbandonata da tempo, è insostenibile. Lo affermano il capogruppo del PD in consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli e la presidente della quarta commissione Lucia De Robertis, annunciando la loro decisione di sollecitare le autorità competenti a verificare lo stato delle cose. I due consiglieri si calano nei panni dei cittadini, dichiarandosi estremamente preoccupati per la salute pubblica e la risposta avuta ad una interrogazione fatta alla giunta regionale da cui emerge l'inadempienza dei soggetti competenti, anziché tranquillizzarli, riferiscono in una nota, ha aumentato le loro preoccupazioni. Per questo, proseguono, abbiamo deciso con spirito di collaborazione di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica e alle autorità competenti per verificare se non vi siano responsabilità sulla situazione creatasi. Ceccarelli e De Robertis ricordano che nel marzo 2023 l'ARPAT ha contattato tutti i soggetti competenti dalla Procura della Repubblica all'Asle Toscana Sud-Est ai Comuni per denunciare la presenza di rifiuti pericolosi e cancerogeni che avrebbero dovuto essere rimossi con urgenza. Ad oggi apprendiamo, dicono Ceccarelli e De Robertis, che questo non è stato fatto.